giardino privato a parma siamo in zona est vieni con me quadra locale tre camere due bagni giardino e se d'inverno non puoi usare il giardino ci abbiamo un bel terrazzo di 30 metri chiuso uno spettacolo vieni con me e Che casa abbiamo visto oggi? Bene, chiamaci o scarica subito la nostra app di Casa Finder dove all'interno trovi tutte le foto e una descrizione più dettagliata. Ti ricordo che è un bell'appartamento, tre camere, due bagni, tutto quanto ben disposto come ben visto, ma in più due garage e una cantina. Comodissimo, due passi dal centro e siamo in città a Parma. Cosa vuoi di più? Clicca qui sotto, o chiama oppure scarica la nostra app di Casa Finder. Ciao e ci vediamo al prossimo video.